La Prisma Taranto Volley ha fatto 13 e questo infatti il numero degli acquisti già conclusi dal sodalizio ionico allenato da Vincenzo Di Pinto in avvista del prossimo torneo di Serie 2. Si chiude con l'ingaggio di Sandi per soglia alla batteria dei centrali, atleta nativo di Gorizia dotato di spiccate doti tecniche soprattutto in attacco e muro. Nell'ultima stagione disputata nelle file della Pallavolo Bari è stato inserito nel miglior sestetto del Girone e del campionato di Serie B nazionale. Classe 1995, alto 2 metri, il centrale si appresta a sostenere la sua terza avventura pallavolistica in Puglia dopo le esperienze con l'Auris Palessano in Serie A2 e la Pallavolo Bari in Serie B nell'ultimo campionato, interrotto poi a causa dell'emergenza sanitaria Covid. Il percorso del centrale 25 anni inizia in Serie C nelle file dell'Olimpia a Gorizia dove milita dal 2011 al 2016, ottenendo poi la promozione in Serie B2 con la squadra friulana nel 2014. Lo spessore del progetto tecnico della Prisma Taranto mi ha subito affascinato, le prime parole di Persoglia, ho avuto un'ottima impressione dei presidenti Bongiovanni e Zelatore. La società sta all'essendo una rosa importante col giusto mix composto da giocatori esperti e atleti che hanno voglia di crescere. Sarà un campionato avvincente, conclude, occorrerà lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi. Sono pronto a mettermi in gioco con i miei compagni di squadra. Spero di togliermi grandi soddisfazioni con i colori rosso-blu.